Ciao a tutti e bentornati. Dopo più di un mese, finalmente ho ricevuto sul conto i 15.000 euro della polizza che avevo stipulato con la banca 5 anni fa e che avevo deciso di chiudere negli ultimi giorni di dicembre. È quindi giunto il momento di decidere come reinvestire questo denaro. E per farlo, può essere utile fare il punto della situazione sul mio portafoglio, anche alla luce delle trimestrali appena pubblicate da alcune delle mie aziende. Anche oggi quindi abbiamo un episodio ricco di contenuti, ma iniziamo con un antipasto, e cioè l'eterna lotta tra i sostenitori degli etf a distribuzione e i sostenitori degli etf ad accumulazione. Come sapete, qualche tempo fa ho pubblicato questo video in cui spiego, dal punto di vista matematico e fiscale, che gli etf ad accumulazione sono sempre la scelta migliore rispetto a quelli a distribuzione. E questo fatto è sempre vero, anche per tutte quelle persone che vogliono una rendita periodica e quindi pensano sia più logico usare gli etf a distribuzione. Non è così. Questo è un dato di fatto innegabile. Se qualcuno non è convinto, consiglio di guardare il video, perché ci sono degli esempi pratici molto semplici che tolgono qualsiasi dubbio. Io continuo a ripetere, come sempre, che l'unico motivo per preferire gli etf a distribuzione può essere quello psicologico. E mi va benissimo. L'importante è essere consapevoli che non sia l'approccio migliore e si stanno perdendo tanti soldi in tasse. Tolta la motivazione psicologica, in effetti c'è anche qualche valido motivo per scegliere gli etf a distribuzione. Ad esempio, quando l'etf ad accumulazione che vorremmo acquistare ha una capitalizzazione molto bassa, oppure ha pochi volumi di scambi, oppure non è neanche quotato nella borsa che vogliamo usare. Io, ad esempio, sto facendo un mini piano di accumulo sull'etf US10 a distribuzione, proprio per questi motivi. La versione ad accumulo ha una capitalizzazione di soli 91 milioni, mentre la versione a distribuzione si avvicina ai 300 milioni, una bella differenza. Nonostante tutto, leggo spesso ancora tanti commenti di persone che non capiscono davvero il grandissimo vantaggio degli etf ad accumulazione e continuano a sostenere gli etf a distribuzione con motivazioni senza senso. Di conseguenza, ci sono tantissime persone con portafogli pieni di etf a distribuzione. All'agenzia delle entrate, sono sicuro stiano festeggiando e si fregano le mani pensando a tutte le tasse in più che questi poveretti pagano ogni anno senza rendersene conto ogni volta che ricevono i dividendi. Fortunatamente, di tanto in tanto, qualcuno apre gli occhi ed è capitato proprio recentemente con un commento sotto al mio video. Ed è un commento fantastico. Dice, a parte le preferenze personali o psicologiche, da acceso sostenitore degli etf a distribuzione ho dovuto ricredermi e fare mea colpa per aver colpevolmente trascurato o ignorato per anni, questa faccenda del dividendo staccato manualmente dalla versione ad accumulo è tassato enormemente di meno. Forse proprio per quello, differenze così clamorose che magari non le ritenevo possibili o logiche, eppure poter ricevere il 20-25% in più di rendita netta a parità di tasso lordo tra le due versioni di etf è un qualcosa di troppo clamoroso per far finta di niente. Almeno io non posso permettermi questo lusso di dire chi se ne frega. Come spiegato nel mio video, infatti, staccarsi un dividendo manualmente vendendo quote di un etf ad accumulo fa risparmiare tantissime tasse e non riduce i rendimenti rispetto ad avere un etf a distribuzione. E le differenze sono davvero clamorose, come viene detto in questo commento. Addirittura non si paga nulla di tasse se il nostro etf è in pari o addirittura in perdita. Sono convinto che chi ancora sostiene che siano meglio gli etf a distribuzione sia semplicemente vittima della fallacia del costo irrecuperabile. Si tratta di un bias psicologico che ci fa rifiutare la realtà dei fatti perché altrimenti significherebbe ammettere di aver buttato soldi e tempo facendo qualcosa di non ottimale. Ed è un peccato perché accettare questo errore e riuscire ad ammetterlo sarebbe il primo passo per correggere il tiro e iniziare da subito a risparmiare tantissimi soldi. Chiudiamo ora la parentesi legata agli etf a distribuzione e passiamo al tema caldo dell'episodio di oggi, e cioè i 15.000 euro che ho svincolato dalla polizza con la banca e ora ho a disposizione per fare nuovi investimenti. Togliendo la polizza, il mio portafoglio è calato a 102.000 euro. Sono riuscito a restare sopra i 100.000 euro grazie agli acquisti mensili del piano di accumulo e questa è la situazione attuale del mio portafoglio. Il 68% è investito negli etf del mio piano di accumulo. Sempre del totale, il 50% è investito nel famoso etf SVDA che non ha bisogno di presentazioni. Poco meno dell'8% è invece investito nell'etf IVMO che sta avendo rendimenti ottimi trainato dalle azioni di Nvidia e Meta. E poi abbiamo la fetta dei mercati emergenti asiatici, composta da due etf e che insieme occupano l'11% del portafoglio complessivo. Questi sono i due etf in questione e seguono entrambi lo stesso indice, quindi hanno rendimenti praticamente identici. Io sto facendo il piano di accumulo solo sull'etf Diamondi e appena ci sarà l'occasione giusta vorrei vendere le quote dell'altro etf per spostarle tutte su questo Diamondi. Farò questa modifica poiché l'etf Diamondi su cui sto facendo il piano di accumulo ha un costo annuo più basso e quindi sul lungo termine può avere rendimenti leggermente migliori. Farò questo switch non appena le mie quote dell'etf accumulato in precedenza torneranno in pari. Può sorgere spontanea una domanda, perché non voglio fare lo switch adesso? La risposta è semplice e ce la fornisce Guido Cardinali in un suo recente video. Nel video ha condiviso un excel per confrontare due fondi o etf e capire se e quando valga la pena fare il passaggio da uno all'altro. Nel mio caso mi conviene aspettare che l'etf accumulato in precedenza e che attualmente è in negativo del 5% circa torni in parità, così da non accumulare minus valenze che poi magari farei fatica a dover compensare. Vi consiglio di guardare il suo video perché ha spiegato tutto in modo molto semplice. Successivamente nel portafoglio ho ancora un paio di etf e poi c'è tutta la parte dedicata alle azioni singole che in questo momento occupa il 21% del totale. Questa parte è cresciuta parecchio negli ultimi giorni grazie anche alla crescita delle azioni meta che da sole occupano il 7,5% circa del portafoglio. Il prezzo delle azioni di meta era già cresciuto tantissimo l'anno scorso ma dopo la trimestrale di pochi giorni fa c'è stato un ulteriore balzo del 20% circa poiché i risultati sono stati davvero ottimi battendo le stime degli analisti. La società ha annunciato anche un aumento del buyback e il primo dividendo in assoluto. Tutte queste notizie hanno fatto decollare il prezzo delle azioni. Anche Google che ho in portafoglio ha pubblicato dei risultati a mio avviso ottimi segnando un record di fatturato e utili per azione ma Mr. Market ha reagito male facendo crollare il prezzo delle azioni del 7% circa. Nulla di preoccupante a mio avviso poiché era già successo qualcosa di simile tre mesi fa dopodiché il prezzo delle azioni salì fino a toccare nuovi massimi storici. Sia meta che Google sono aziende eccezionali e continua a essere positivo per in lungo termine quindi non mi preoccupo di eventuali cali di prezzo sul breve termine. Tra le mie azioni anche United Health Group ha fatto una trimestrale positiva come sempre ma alcuni timori sui costi medici più alti del previsto hanno fatto calare leggermente il prezzo. Resto comunque molto positivo anche su questa azienda per il futuro. Infine c'è stata la trimestrale anche per Alibaba e come al solito non è un evento per i deboli di cuore. L'azienda ha pubblicato una crescita globale molto scarsa per il fatturato e addirittura un calo sia degli utili che del free cash flow rispetto all'anno precedente. Alcuni segmenti comunque stanno crescendo molto rapidamente e la dirigenza ha dichiarato che sta facendo investimenti importanti per accelerare nuovamente la crescita anche negli altri settori. Posso comunque capire il poco entusiasmo per questi risultati da parte del mercato e il piccolo crollo di prezzo delle azioni. Cercando comunque di guardare le note positive l'azienda ha aumentato ancora il budget a disposizione per fare buyback e con il prezzo delle azioni così depresso dovrebbe esserci un buyback di circa un miliardo di dollari ogni mese. Questo permetterà di far crescere ancora sia gli utili per azione sia il free cash flow per azione. E proprio il free cash flow per azione nonostante i risultati sotto le aspettative ha raggiunto valori mai visti prima e cioè 8 dollari per azione circa. Si tratta di un free cash flow yield dell'11% circa altissimo. Dal mio punto di vista sono anche felice di vedere che la stock base compensation in rosso in questo grafico continui a rimanere sotto controllo rispetto agli anni precedenti. Questo permette di avere più free cash flow vero e proprio a disposizione. Se guardiamo poi i bilanci e i debiti l'azienda da questo punto di vista è in una situazione davvero solidissima avendo più di 90 miliardi di dollari di cash a disposizione. Anche per questo motivo ritengo che Alibaba non sia assolutamente sull'orlo del fallimento come qualcuno vuol far credere. Sebbene non possa sicuramente avere rendimenti stratosferici fino a che non riuscirà ad accelerare la crescita del fatturato e degli utili. Servirà quindi tanta pazienza anche perché tutto il mercato cinese in questo momento è depresso. Una ripresa di tutto il mercato aiuterà sicuramente anche le azioni di Alibaba. Infine nel mio portafoglio abbiamo una piccola fetta del 5% dedicata a bitcoin. Per i 15 mila euro recuperati dalla polizza mi piacerebbe usarne una parte per incrementare alcune delle azioni singole che ho in portafoglio e una parte per acquistare una o due nuove azioni. Tra le azioni del mio portafoglio ce ne sono quattro che vorrei incrementare più di tutte le altre. Prima di dirvi quali sono se questo episodio vi sta piacendo come sempre vi chiederei gentilmente un like ed iscrivervi al canale. Mi farebbe sempre molto piacere. La prima azione che vorrei incrementare è Berkshire Hathaway, il conglomerato gestito da Warren Buffett e di cui ho solo tre azioni che occupano circa l'1% del mio portafoglio. In questo momento il prezzo delle azioni viaggia sui massimi storici. Non appena ci fosse un attimo di debolezza e un piccolo ritracciamento vorrei raddoppiare o triplicare la mia posizione. La seconda azione è United Health Group, il colosso della sanità americana. Nei giorni successivi alla trimestrale, come detto poco fa, c'è stato un piccolo crollo con il prezzo delle azioni sotto i 500 dollari. Avrei potuto sfruttare quel momento per acquistare altre azioni ma ho preferito aspettare di avere la liquidità della polizza disponibile sul conto. Se il prezzo delle azioni dovesse tornare nuovamente intorno ai 475 dollari, cercherò di non farmi trovare impreparato. Come vediamo da questo grafico, ormai sono circa due anni che il prezzo delle azioni di United Health Group sta oscillando tra i 450 e i 550 dollari. Penso che sia una fase di consolidamento dovuta a una crescita forse eccessiva del prezzo delle azioni negli anni precedenti rispetto ai fondamentali. Fondamentali che però stanno continuando a migliorare recuperando terreno e salvo imprevisti mi aspetto che prima o poi anche il prezzo torni a salire. Non ci sono tante aziende che hanno dei grafici come questi quando parliamo di fatturato, utili e free cash flow, tutti in costante crescita anno dopo anno. United Health Group è una di quelle aziende che mi fa dormire sonni tranquilli, esattamente come Berkshire Hathaway. La terza azione che vorrei incrementare è l'ultima new entry e sto parlando di Exor, la holding gestita dalla famiglia Agnelli e in particolare da John Elkan. Dopo il mio primo acquisto il prezzo delle azioni è cresciuto già del 7% circa, quindi preferisco aspettare che torni nuovamente sotto i 90 euro per incrementare la posizione. L'ultima azione già presente nel mio portafoglio e che potrei incrementare è Lowes, il gigante dei negozi per manutenzione e ristrutturazione della casa, che opera in regime di duopolio con Home Depot. Anche in questo caso il prezzo delle azioni si sta consolidando intorno ai 200 dollari da oltre due anni e sono convinto che sia un'ottima azienda per il lungo termine, sapendo che negli Stati Uniti c'è grande bisogno di abitazioni nuove ma anche di ristrutturare quelle vecchie. Ed è anche per questo che aziende come Lowes e Home Depot hanno potenzialità di crescita ancora per tanti anni. Se il prezzo delle azioni calasse sotto i 200 dollari inizierei a valutare un nuovo acquisto. Sono convinto che tutte queste quattro aziende, sebbene possano soffrire di volatilità sul breve termine, mi permettono di avere un portafoglio di maggiore qualità a lungo termine rispetto ad avere la polizza stipulata con la banca, come avevo fino a poco tempo fa. Con ogni acquisto infatti il mio obiettivo è proprio quello di migliorare sempre di più la qualità del mio portafoglio e a tal proposito ci sono anche tre azioni che sto tenendo d'occhio e che mi piacerebbe davvero molto riuscire a comprare. Prima di dirvi quali sono, ricordo che per chi volesse sostenere il mio lavoro qui sul canale c'è la possibilità di farmi una piccola donazione tramite il pulsante grazie qui sotto. Ve ne sarei infinitamente grato. Le azioni che continuo a tenere d'occhio e che vorrei inserire nel mio portafoglio sono Visa e Mastercard che secondo me sono tra le aziende migliori in assoluto. Anche le loro azioni viaggiano vicino ai massimi storici e quindi mi piacerebbe attendere anche un piccolo calo per fare un primo ingresso. Non penso di volerle acquistare entrambe poiché hanno dei rendimenti e dei business praticamente identici. Avere una qualsiasi di queste due aziende in portafoglio mi farebbe sicuramente dormire sonni tranquilli. La terza azienda invece è Booking che reputo abbia davvero un vantaggio competitivo incredibile e abbia anche delle valutazioni abbastanza vicine a quelle che potrebbero convincermi a fare un primo acquisto. Come sapete la mia watchlist è molto più lunga di queste tre azioni ma queste sono quelle che attualmente tengo monitorate più da vicino poiché i loro prezzi non sono lontanissimi da quelli a cui vorrei fare un primo ingresso. Come sempre vi terrò aggiornati in modo totalmente trasparente come ho sempre fatto. E a tal proposito nei giorni scorsi ho anche venduto quelle poche azioni di intesa che avevo in portafoglio. Si trattava solo di 200 euro di cui 60 euro di capital gain. Vendendo non ho pagato nulla di tasse poiché ho delle minus valenze da recuperare e quindi ne ho approfittato. Dopotutto si trattava di una percentuale assolutamente irrilevante del mio portafoglio. Anche per oggi è tutto. Spero che abbiate trovato interessante questo episodio e ci vediamo alla prossima. Ciao!